Nella prima falla i filosi cercano di salvare le loro vetture, provano a studiare gli altri avversari e provano a capire quale migliori strategie possono adottare per non rimanere a piedi con la macchina. Vediamo un primo insabbiamento al numero 69, Cimo, l'aviatore dell'arena. Ecco signore, il prego e il pietro del signore, il signore più desiderati che ha rimesso in pista la bravo del Cimo. Vediamo ancora una fase di studio. Poche botte per adesso. Ok, fermi tutti. Fermo tutto. Fermi ragazzi, c'è una macchina ferma, bandiera bianca. L'unico che non si può fermare è il Cimo. Che si è fermato. Un applauso per i soffiati sulla Renault che ci abbandono dopo circa 40 secondi. Ok, tutti in macchina. Qualcuno spinga la bravo. Poi tutti in macchina e si comincia. Un applauso per i soffiati. Grazie.